Buonasera, Pagine Arredo in Riva 1920, siamo ospiti di Maurizio Riva che ci racconterà questa splendida storia fatta di legno come dice lui. A lei la parola. La più che splendida è piccola, però è splendida sicuramente. Da anni con grande forza portiamo avanti questo pensiero, pensiero che oltre a fare l'imprenditore, il piccolo imprenditore e avere tanti giovani in produzione, la grande vicinanza ai giovani facendo concorsi di idee, ma soprattutto lavorando con legni di forestazione, con legni di riuso, con finiture naturali. Impariamo tutti i giorni con i designer importanti e meno importanti dove veramente alla sera si va a casa con qualcosa di buono. Cosa devo dire? Siamo in un momento molto negativo, probabilmente io ne sono anche abbastanza contento di questo momento negativo, non vedo la fine di questo momento, perché se veramente ci mettiamo di puzzo buono tutti quanti, probabilmente lasciamo alle prossime generazioni qualcosa di buono, perché sicuramente Romus non è stata sbagliata. Voi siete reduci da Colonia, pertanto qual è stata la vostra sensazione? Ma è Colonia, chi va in una fiera ormai uno deve identificarsi, deve guardare un po' se stesso, quindi alla fine ogni azienda fa a sé, fa a sé anche su un mercato e tutto il resto, quindi a ognuno può capitare le cose belle come può capitare niente oppure tornare veramente a mani vuote, che non è tanto il momento di tornare a mani vuote. Arriva il primo mercato è la Germania, siamo, devo dire, in un buon mercato per noi, anche perché non l'abbiamo mai abbandonato, ritengo che ci vogliono abbastanza bene i nostri tedeschi, mi sento più tedesco che italiano, perché quando vengo a casa mi arrabbio a vedere le nostre infrastrutture è il nostro mondo e quindi è andata bene, ci auguriamo che cambi, che però io vedo che la galleria è molto lunga per arrivare in fondo, non è vero ciò che dicono i nostri politici perché probabilmente questi signori dovrebbero salire in macchina e andare a lavorare come la povera gente che va a lavorare e fa coda magari due ore per andare a Milano qui dalle nostre parti e dire altro non lo so, sono abbastanza negativo ma molto positivo insomma, perché bisogna lavorare per veramente, io poi sono nonno e ho due nipotini, quando li guardo penso a loro e quindi alle mie figlie, ai miei nipoti e soprattutto ai miei nipotini. Visto che ci troviamo in questo splendido museo, che definire splendido è poco, no? Con un sacco di storia. Come è stata all'inizio o la voglia di provare col discorso briccole e più in generale col discorso legni antichi recuperati? Ma sono le emozioni, no? Le emozioni che si provano lavorando il legno e oltre a lavorare il legno siamo arrivati a lavorare i legni di riuso, dal caori alle briccole, alle botte con San Patrignano, portando a loro questo progetto, aiutando questi giovani in recupero. E il cedro, anche questo è un altro nostro percorso e quindi non è l'idea, è ad operare e affinare che dal legno di forestazione siamo passati anche al regno di riuso. Diciamo, la difficoltà a recuperare questi materiali, quante energie vi assorbe e come viene svolta questa selezione? Ma le energie sono tante, soprattutto i primi anni non sono neanche ritorni, Il problema è che però, cosa succede? Fa crescere la riva anche in modo di comunicare, nella comunicazione, fa crescere la riva nel suo, identificandola un po' un'azienda, un po' anomala in poche parole. Quindi poi per noi, oltre a fare, io ritengo, dei prodotti belli o brutti che siano, però sani, soprattutto all'interno, alla fine tutto aiuta a tutto. E considerando che l'abricola sostanzialmente è un recupero, per cui ci avviciniamo a tutto quello che è il discorso del riuso, del riutilizzo, del green, quanto è importante questo valore nella vostra azienda in questo momento qua? E riuscite ad applicarlo a tutta la filiera o è un qualcosa che è difficile da applicare all'industria immobile? No, diciamo che si affina ogni giorno, quindi siamo arrivati a un buon livello. È logico che prima di pianificare questi investimenti fatti con la collezione Briccolo, con la collezione Cauri, ce ne vuole ancora. Non è quantificabile quanto però fa crescere, per dire, il nome riva, come riva nel 120, e poi anche la produzione che gli è annessa sulla produzione normale di collezione. Perfetto, ringraziamo Maurizio Riva, è stato cortesissimo, ospitalissimo, e speriamo di poter ricambiare l'ora. Grazie a tutti.